Buongiorno a tutti, metto insieme un po' di cose, facciamo una miscellanea. Leggevo poco prima di venire in onda un'opinione secondo la quale il silenzio del Milan alimenta la confusione. Ieri sera erano in trasmissione a Top Calcio, arriva un tifoso e dice «Ah ma il Milan è il 30 maggio, non ha ancora comprato nessuno». Poi i siti è successa una cosa importante certificata da Football Benchmark sulla crescita del Milan negli ultimi otto anni e i siti titolano lo scudetto del bilancio. Perché titolano lo scudetto del bilancio? Perché vogliono grattare la pancia e provocare il click dei tifosi del Milan che su questo tema sono abbastanza sensibili. Vorrei affrontarla una ad una, questa filiera. Dice il Milan in silenzio, il Milan sei giorni fa ha parlato, prima e dopo Milan Salernitana. Per far star tranquilli tutti bisogna dichiarare ogni giorno ma i tifosi del Milan, anche se questa frase, il silenzio e la confusione, non è dei tifosi del Milan, preferiscono che il Milan stia in sede o dove è opportuno e necessario a lavorare tosto e duro per il mercato oppure a presentarsi davanti alle telecamere. Questa è stata una settimana importante di lavoro in casa nostra sul mercato. Cioè non è che se non parliamo o se da fuori soprattutto continuano a parlare e a fare interventi ultimativi quando deve ancora finire la stagione ufficiale il Milan non lavora. Il Milan ha lavorato tanto, tosto e duro questa settimana. Se guardate, se dovessero riuscirci tutte le cose che sogniamo di fare e che come ogni mercato vengono messe, si prova a mettere in cantiere, qui mi fermo, però sarebbe davvero interessante. Ma si lavora. Cioè, ripeto, la critica di un tifoso di ieri il Milan non ha ancora acquistato nessuno. Acquistato, perché è vero che all'Inter sono arrivati due parametri zero come Zieninski e Taremi e su Taremi, contrariamente a Turam e Frattesi, caro Biasino, non dirò mai che il Milan non c'è stato. Certo che il Milan c'è stato, c'è stato e alla grande. Anche se poi le cose sono diventate un po' confuse e come è accaduto tanti anni fa per Luiz Adriano che era andato in Cina per siglare un accordo e poi venne rispedito in Italia, anche questa cosa di Taremi ci sono state insomma un po' di cortine fumocene. Ma va bene così. Lo sappiamo che c'eravamo sopra, ma e io non lo smentirò mai, contrariamente a Turam e Frattesi. Ma voi che seguite, che avete la pazienza, chi è rimasto, ma non è un problema, anzi, è meglio, vivo più sereno, più tranquillo. Chi è rimasto a seguire questo canale sa perfettamente che qui, negli ultimi giorni di mercato della scorsa estate, mentre il Milan, confermo ufficialmente, era su Taremi, ho sempre detto che alla fine non sarebbe arrivato. La mia sensazione era che non sarebbe arrivato. E non è arrivato. A parte l'Inter che ha preso Taremi rischiettare, nessuno ha acquistato nulla oggi. Ma il Milan deve, sembra, sembra, davvero che dichiarazione dopo dichiarazione, incazzatura dopo incazzatura, parere dopo parere, opinione dopo opinione, il Milan sia nell'apocalisse. Lo scudetto del bilancio. Non c'è nessun'apocalisse in casa nostra. Se Football Benchmark certifica che negli ultimi otto anni il valore del Milan è cresciuto del 163%, ragazzi, è un fatto importante. Cioè, ma il Milan pensa solo a queste cose. Il Milan, nelle ultime tre edizioni estive del mercato, ha speso 191 milioni. 95, 45, 50 al netto di entrate e uscite. 95, 45 e 50. 95 rotti, 45 rotti, 50 rotti. Sono 191 milioni. Quindi ci si può accusare di di non aver fatto bene le cose, di non aver fatto bene le scelte, di aver sbagliato tutto. Sempre, per carità, ci sta. È una lettura. Ma non dite che il Milan pensa solo alle cifre del bilancio. Perché non è così. Quindi, insomma, direi così che veramente ogni giorno che passa attorno al Milan, non nel Milan, attorno al Milan, al di fuori del Milan, sembrano 100. Da tutta questa attesa spasmodica che si è creata. È un po' così. La tendenza è questa, raccontare il Milan. insomma, volente o non volente dobbiamo farcene una ragione e bisogna prenderne altro. Zirze, ne ho parlato ampiamente ieri. Piace a tutti e tutti ci sono sopra. Confermo che le commissioni sono molto alte. Ma in qualche modo anche decisive. La mia sensazione è che contrariamente a quanto scritto dai giornali in questi giorni, più che un duello Milan-Juve sia un duello Milan-Premier League con l'Inter sullo sfondo. Nel senso che se l'Inter dovesse arrivare a cedere Lautaro Martinez è chiaro che avrebbe i fondi per questo labirinto, in questo ginepraio. però vorrei arrivare a un punto vorrei arrivare a un punto con voi. Nel senso che se l'Inter dovesse cedere Lautaro Martinez che è il capitano, il big, il simbolo della squadra, vuoi perché c'è l'estasi e la fibrillazione per la vittoria dello Scudetto e della seconda stella. Vuoi per tante cose, però dall'altra parte sono tranquilli perché dice ah vabbè ma anche se parte Lautaro Martinez lo sapremo sostituire alla grande. E invece sul Milan parlo di narrazioni non di trattative se dovesse mai partire un big tragedia scenario fosco ridimensionamento fine della storia titoli di come quando nell'estate 2021 se non sbaglio è partito Donnarumma ed è arrivato Mike Mignan non mi sembra male come sostituzione quando nell'estate del 2023 è arrivato è partito Tonali e noi abbiamo rifatto offensivamente la squadra bene perché abbiamo segnato 99 gol non l'abbiamo rifatta del tutto perché dobbiamo completare quest'estate e il Milan lo sa perfettamente però non mi sembra che anche il Milan se si tratta di reinvestire i soldi delle cessioni o sostituire big che partono sia particolarmente sprovveduto però c'è questo questo passi di partenza fossimo nel basket sarebbe passi di partenza per cui a prescindere da anni non da oggi da anni perché anche quando arrivò Mignan al Milan l'estate di discussione di dibattito era stata beh via Donnarumma arriva Mignan il Milan ha già 10 punti in meno ve la ricordate questa analisi o no? è stata confermata dai fatti o no? e allora non non infarciamoci la testa di dubbi con le analisi estive perché le analisi estive lasciano il tempo che trovano e soprattutto ci se ne dimenticano ma questa frase non so se vi ho sbloccato dei ricordi che con Mignan al posto di Donnarumma il Milan aveva già perso d'amblè 10 punti in classifica ve la ricordate o non ve la ricordate? ecco fate mutatis mutandis su tutte le cose che state leggendo in questi giorni e poi vedremo quello che accadrà ci vediamo ci sentiamo nel pomeriggio dopo la partita di Perth tra Milano e Roma ciao a tutti a petardi